Ciao, sono Filippo Berto e sono molto felice di fare questo video perché ho l'occasione di invitare tutti i nostri clienti, i nostri amici, i nostri collaboratori all'evento che terremo durante la settimana del design milanese, finalmente dopo due anni e mezzo di assenza per ovvi motivi e avremo modo di essere presenti da questa domenica al prossimo venerdì all'interno di un contesto veramente straordinario dove non saremo presenti solo durante la settimana del design ma saremo presenti per i prossimi mesi, per i prossimi anni. Il posto è straordinario, si chiama LOM, probabilmente l'avete visto perché lo stiamo raccontando da qualche tempo ed è il progetto di un gruppo di amici, i fratelli Borri, gli architetti Borri, Andrea e Michele e il professor Stefano Micelli che ci accompagna da tanti anni e che conoscono tutti e non ha bisogno di presentazione e che hanno deciso di prendere questo spazio milanese, una vecchia cascina del Settecento, non farci la classica speculazione tipica per cui farci degli appartamenti e rivenderli anche perché all'interno di un contesto straordinario perché in centro Milano non c'è un rumore, sei in mezzo alla natura, c'è un silenzio pazzesco e sei attaccato al monumentale a due passi dalla metropolitana e il posto è straordinario perché lo vedrai quando verrai a trovarci, è veramente bello. Hanno deciso di farci un progetto veramente avanzato, veramente all'avanguardia che devi venire a scoprire e che ti voglio raccontare brevemente. Hanno deciso di ristrutturare tutto in ottica sostenibile, riqualificando uno stabile abbandonato anche seguendo le linee guida di quello che è stata l'idea dell'assessorato allo sviluppo economico del Comune di Milano. Ma non solo farci questa ristrutturazione, poi ci verrai qualsiasi elemento di questo stabile all'avanguardia per quanto riguarda la sostenibilità, dagli impianti, i materiali, al riuso eccetera. È pazzesco. Ma anche per ospitare in città degli artigiani che potessero avere dei progetti all'avanguardia per quanto riguarda sia la sostenibilità o la manifattura 4.0 o il digitale. Ed ecco quindi ci siamo noi ma ci sono anche due amici, altri due artigiani, altre due ditte molto belle, molto importanti con i loro progetti, una riguarda l'arredo e un'altra riguarda la moda e poi ci siamo noi. Noi abbiamo questo spazio dove chiaramente ospiteremo tutti i nostri clienti per la presentazione delle novità che ci saranno solo all'OM e non ci saranno in altri posti, quindi avremo tutto il nostro laboratorio di studio sui materiali, troverai tutti i nostri prodotti ma realizzati con dei materiali completamente innovativi, fatti apposta per questo progetto di ricerca. e quindi ci saranno i nostri designer, i nostri ragazzi che potranno assistere, coccolare tutti i nostri clienti durante la settimana ma anche dopo e poi ci sarà stabilito il nostro laboratorio vero e proprio dove ci mettiamo in discussione sui temi della sostenibilità. Anche il nostro settore rispetto ai temi dell'ambiente che sono chiaramente cruciali in questo periodo deve mettersi in discussione e credo che anche Alberto deve fare la sua parte. Per cui ci mettiamo in gioco in collaborazione con il Politecnico, Polifactory, il professor Maffei e per quanto riguarda uno studio specifico con i loro ragazzi, con i loro studenti, con il loro dipartimento per quello che potrebbe essere veramente il futuro della sostenibilità per quanto riguarda l'imbottito. Ci portiamo dietro la tradizione del Made in Meda che non è solo come si facciano i divani 100, 200, 300 anni fa ovvero con questa ossessione pazzesca rispetto alla qualità. È una città straordinaria che ci vogliamo, ci facciamo carico e ci portiamo nel DNA per salvarla, per fare in modo che tutto questo non vada perso ma che possa andare avanti ma andrà avanti solo se ci mettiamo in discussione anche su questi temi. Per cui Made in Meda a Milano con Berto all'interno di LOM ti aspettiamo da questa domenica al prossimo venerdì, contatta i nostri ragazzi qua sotto troverai i nostri numeri per contattarci, per fissare un appuntamento e venirci a trovare, ti aspettiamo.